Meravigliau! Non è vero, Frastica, ma perché mi fa? Allora faceva il trucco! Ma sempre lo faceva! Lei deve sempre coprire in televisione! Sì, però pensavo che quello era bravo, invece è un imbroglione! Non è un imbroglione! Poi diceva che si trasformava! Non è! Ma non lo dica davanti alla telecamera! Non lo dica a me dalla telecamera! Ma quello è un imbroglione, non lo dobbiamo chiamare! Ma quello è un imbroglione! Guardi che l'imbroglione siamo noi che lavoriamo in televisione, hai capito? Ma io non sapevo niente! Ma io non sapevo niente! Ma perché lei è entrata da poco in televisione! Se lei lavorasse come lavoro io da 25 anni in televisione, saprebbe che... Ma pensavo che è una regola! Questa potrebbe essere una regola... E' chiaro mio, che vuole dire! Ecco qua! So cosa vi facciamo! E vediamo un untilno... Ho iscrivere e vedi! Cacau, 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 lo sponsorau della nostra trasmissau. Il ragazzo del Cacau, meraviglia Williams, un pesante. sera praticamente, con Riccardino, il nuovo presentatore, e il cacao meravigliato, eccolo qua. Il cacao meravigliato, eccolo qua. Buonanotte a tutti, buonanotte a tutti, dai indietro tutta.